Buongiorno e bentrovati con l'edizione mattutina del TGL News di lunedì 20 dicembre. Apriamo subito con il colpo di scena nell'avvertenza Amazon uno dei temi caldi di questo fine anno. La dirigenza del colosso logistico americano ha disertato l'incontro previsto questa mattina alle 8.30 in prefettura con i rappresentanti dei lavoratori del grande magazzino di Castel San Giovanni che chiedono miglioramenti nelle condizioni contrattuali e di lavoro all'interno dello stabilimento. Un malumore che era sfociato nello sciopero del 24 novembre in occasione del Black Friday. Troppa pressione hanno fatto sapere i dirigenti dell'azienda che saranno convocati sempre oggi ma in un secondo tempo. Erano uno dei simboli dell'era Reggi volute proprio dall'ex sindaco di Piacenza sul finire degli anni 2000 come barriere per il traffico veicolare. Stiamo parlando delle ultime due fioriere elettriche collocate nei dintorni di Piazza Duomo in centro che il Comune ha provveduto a rimuovere nei giorni scorsi. Le altre sei situate tra via 20 Settembre e via San Francesco erano state già tolte nei mesi scorsi. Forisacco dedica la puntata di questa sera in onda come sempre alle 21 su Tele Libertà alle tradizioni eneogastronomiche piacentine. Il direttore Nicoletta Bracchi e il vice direttore Michele Rancati condurranno una puntata speciale realizzata direttamente tra le cucine dell'Istituto Raineri Marcora. Saranno infatti i ragazzi a realizzare tutto il menù che sarà poi servito da alcuni ospiti speciali ossia il vescovo Gianni Ambrosio, lo storico Stefano Pronti e la preside Maria Teresa Andrena. Chiudiamo con lo sport, sarà un pomeriggio di calcio dilettantistico con i recuperi delle gare reinviate due settimane fa a causa della nevicata che imbiancò la provincia di Piacenza. Sul nostro sito liberta.it trovate tutte le partite che vanno dalla Serie D alla prima categoria. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 13.15 ma l'informazione continua ovviamente sul nostro sito liberta.it Grazie a tutti.